ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi video di prodotti finiti e bocciati perché perché ne ho veramente tantissimi quindi probabilmente a breve tra qualche settimana comunque sicuramente da qualche video rivedrete un altro video uguale a questo perché in questo periodo ne ho finiti veramente tantissimi di prodotti e quindi sono stra anche contenta perché sapete no che io ho sta fissa che adesso soprattutto voglio finire i prodotti perché non mi piace l'idea di comprare i prodotti e non finirli quindi sono veramente un sacco contenta che questo stia avvenendo detto questo partiamo con il primo perché ho veramente una mucchia di roba che non avete idea allora partiamo con questo scusate se è un po sporco ma era in mezzo ai trucchi quindi di conseguenza se è un po sporcato questo è il make up setting spray long glassing di urban nickel lighter allora questo qui veramente ve lo consiglio un sacco se vi piace avere il make up bello duraturo tutto il giorno tutta la sera tutta la notte insomma quando vi truccate e volete che rimanga appunto nel tempo per me è straconsigliato questo l'unica cosa è che secca un po la pelle ed è ricca di alcol ovviamente perché sennò non non avrebbe il suo potere ultra fissante quindi ovviamente a maggior ragione vi consiglio di fare comunque una buona skin care dopo aver tolto questo prodotto perché vabbè finché vi truccate ci può anche stare però mi raccomando ricordiamoci sempre di far la skin care e di tenerla ben idratata perché sennò quando si mettono poi questi prodotti dopo la nostra pelle succhia tutte queste cose e non è un granché io avevo provato questo qui mini size cioè quello anche più grande penso che più avanti lo ricomprerò perché comunque è molto molto utile per quando si vuole appunto un effetto molto duratura di make up quindi io ve lo straconsiglio se non l'avete ancora provato provatelo e so che comunque urban di che ne ha fatti diversi anche a effetto più luminoso infatti sono molto curiosa e vedrò quale provare prossimamente vi faccio vedere l'ennesima maschera di mermaid in mila pur agli clay mask che sia un po impolverata perché questi prodotti solida un po e si è l'ennesima maschera che ho finito e penso sia anche l'ultima che avevo in stock se avete già visto altri video dei prodotti finiti comunque vi seguite anche su instagram avete visto altri video sapete quanto io ami questa maschera è veramente stupenda questa va messa prima del lavaggio capelli sul cuoio capelluto per scassare bene per pulire bene in profondità e per me è veramente una mano dal cielo questo prodotto ve lo continuo a consigliare veramente tanto ho iniziato a prendere anche altri prodotti simili a questi perché sinceramente mi piace variare e voglio vedere se trovo altre maschere buone come queste questa qua è veramente la mia preferita del brand di mermaid in mila quindi se ancora non l'avete provato dopo i miei inesimi video dove vi dico di provarla provatela perché secondo me vi svolta la vita soprattutto se siete portate ad avere dei capelli molto molto grassi alla cute e un super pro di questa maschera è che si mette pre shampoo quindi la potete tenere quanto tempo volete un minimo di 15 minuti un massimo che secondo me neanche c'è comunque non so per dire dovete stare tutto il giorno in casa vi dovete lavare i capelli della potete tenere anche delle ore che anzi più la tenete secondo me meglio è parlando di un altro prodotto sempre di mermaid in me vanilla dreams shampoo il conditioner il balsamo lo sto ancora finendo non so voi ma io finisco sempre prima gli shampoo degli balsami e quindi quello ancora ce l'ho tanto qua fuori stanno facendo un casino che non ho idea io non so ogni volta che mi metto a registrare il video c'è sempre qualcuno che deve far casino comunque questo qui mi è piaciuto tanto ha un buon profumo di vaniglia e lava bene i capelli però vi dico la verità si può anche fare a meno di prendere questo prodotto c'è comunque a un suo posto si va bene che è naturale tutte le varie cose però vi dico la verità adesso mi sto stoppando dal comprare gli shampoo qua da mermede mi anche perché appunto non facendo ordini perché so prova voglio provare altre maschere voglio provare a ritornare nei soliti shampoo da supermercato che mi sono sempre comunque trovate molto bene però se volete provarli questi qui sono veramente molto validi vi durano anche un sacco di tempo all'interno questo nello specifico a 250 ml non me ne serve neanche tantissimo perché è abbastanza concentrato quindi secondo me questo qui comunque valido io personalmente per ora mi sto però da comprare gli shampoo qui da mermede mi però se voi volete fare un acquisto perché magari volete provare la maschera volete provare qualche prodotto comunque ve li consiglio altro prodotto make up che a dire la verità questo non è proprio finito finito al centesimo ma adesso vi spiego perché è questo mascara di essensi lash princess volume mascara questo rosso rosso rosa salmone che praticamente è un mascara a effetto appunto volume secondo me sì un effetto volume abbastanza discreto ci sta come mascara secondo me da tutti i giorni già se mettete sotto degli ombretti qualcosa di un po che insomma in cappuccia l'occhio questo non è il mascara secondo me troppo adatto infatti tutte le volte che l'ho usato non avevo quasi niente sotto comunque di colori molto chiari sulla falpebra perché secondo me è un mascara che si disperde troppo in un trucco un po elaborato però è comunque molto valido i prezzi di essens si sanno sono tutti molto bassi l'unica cosa è che visto che hanno una scadenza di sei mesi mascara questo qui c'è scritto esatto sei mesi una volta aperto questo ce l'ho da sicuramente più di te più di sei mesi aperto e ho deciso di metterlo nei prodotti finiti e buttarlo via perché ultimamente mi sto accorgendo che gli occhi molto più sensibili e non so perché ogni volta che metto dei prodotti o comunque anche dei mascara che ho notato uno tra quali questo perché appunto secondo me ce l'ho aperto dopo troppo tempo iniziano a lacrimare gli occhi insomma non è l'ideale infatti adesso mi sono mi sono iniziando a segnare tutte le varie scadenze anche dei trucchi più la skin care c'era un po più fissata però mi rendo conto che anche i prodotti per gli occhi soprattutto cose come il mascara queste cose qui è meglio averle in ottime condizioni quindi ho deciso di buttarlo comunque secondo me ormai lì per finire non penso che lo ricomprerò per il semplice fatto che già quello verde che è sempre di questa linea lo amo mille volte di più in più diciamo che non è male però allo stesso tempo ho trovato di meglio ma per il prezzo per me è comunque un mascara stra approvato per tutti i giorni prima dico da lì la vina search idra crema ss iditation intense non so se l'ho trovata nel calendario dell'avvento o in qualche ordine che ho fatto me l'hanno regalato penso nel calendario dell'avvento di look fantastic comunque questa crema non è tantissima sono 15 ml quindi non vi dura una vita mi è piaciuta però tanto l'ho usata come crema da notte perché io la sera comunque di norma uso sempre crema un po più idratanti e questa mi è piaciuta veramente tanto non so dirvi se regala tanta idratazione se fa qualcosa in particolare perché l'ho usata talmente poco sicuramente meno di un mese perché anzi forse ancora meno forse l'avrò usata per due settimane perché è talmente poca la quantità che non si può percepire veramente il prodotto che potere abbia però vi dico che come sensazione sulla pelle mi piaceva molto perché l'idratata non la sentivo secca non la sentivo con ancora il bisogno di qualche idratazione di qualche prodotto in più quindi secondo me può essere una crema molto valida tonico di vichy il purete termelle lotion tonic tonic non so come si dice perfettrice insomma un tonico perfezionatore questo tonico mi è piaciuto veramente tanto infatti me lo sono mangiato non so se avete visto il video dove l'avevo acquistato dove stavo iniziando a testarlo quindi c'è veramente vi giuro l'avrò finito in un mese o in un mese e mezzo dir tanto e comunque qua di prodotto ce n'è e di tonico non è che se ne usi in quantità industriali è piaciuto veramente tanto perché sul viso mi dava pochina sensazione di comfort di delicatezza non l'ho trovato per niente aggressivo è veramente un sacco carino e secondo me se state passando un periodo dove avete tante imperfezioni oppure dove avete la pelle particolarmente sensibile particolarmente provata questo tonico può fare il caso vostro io come vi dico spesso non trovo nei tonici diciamo la scoperta della vita perché comunque un tonico io magari punto di più sul contorno occhi sulle creme queste cose però vi giuro che questo tonico mi è piaciuto veramente tanto ed era proprio una coccola usarlo quindi nel caso provatelo anche voi io penso che l'avevo comprato su look fantastic che c'è di sci e mi è piaciuto veramente tanto e non ha un costo neanche esagerato comunque per essere un prodotto di bici in questo video metto anche questo siero di sephora intanto qua c'è un capello ok questo siero di sephora il super serum ecletta ultra glow serum con la vitamina c ed e allora questo siero si non è male diciamo che non ho neanche proprio finito perché c'è ancora un goccino ormai ce l'avevo aperto da troppo tempo e stesso discorso per il mascara ho preferito cestinarlo mi rendo conto che sì mi piaceva anche applicarlo era una bella coccola però vi dico la verità non ho notato chissà quanti miglioramenti non ho notato chissà che differenze quindi non lo so se consigliarvelo sinceramente io non l'ho comprato direttamente ma mi era arrivato il regalo con appunto il calendario della vetro di sephora non di quest'anno ma dell'anno prima infatti era aperto da diverso tempo e questa è una scadenza di un anno quindi sì l'ho tenuto giusto un anno perché mi ricordo che l'avevo iniziato a usare subito a dicembre quindi a dicembre del 2021 è scaduto e l'ho usato abbastanza comunque perché alla fine contate che anche di questo non è che ne serva tantissimo con questa pompetta prendevate la quantità però sì c'è un siero carino ma sinceramente io non ho notato chissà che differenze crema giorno la c rush brightening gel cream di ula ericsson o le ericsson non so come si pronuncia questo brand allora questa crema intanto profumo di arancia veramente buono vi giuro vi da proprio questo sprint di freschezza e questa crema secondo me non è indicata per il periodo assolutamente invernale o comunque il periodo più freddo infatti io l'avevo aperta tipo tipo ottobro novembre avevo finito una crema avevo iniziato ad usare questa però mi stavo rendendo conto che era un po troppo soft per i miei canoni cioè secondo me questa d'inverno al massimo può andar bene per chi ha veramente una pelle tanto grassa che non può avere quasi niente sul viso che se no lo butta fuori perché è veramente molto molto soft questa crema la trovo ideale per i periodi tipo primavera estate però non so se consigliarla a chi invece ha una pelle secca perché magari una pelle secca ha più bisogno di idratazione anche in quel periodo quindi non so cioè a me mi è piaciuta tanto mi piace come si stende mi piace il profumo mi piace l'effetto che dà però si sente che non è abbastanza idratante rispetto magari ad altre creme che invece sono molto più utili nel periodo invernale infatti io l'avevo stoppata avevo iniziato a usare un'altra crema quella di cuda lì poi quando ho finito quella avevo ripreso per due tre volte questa perché alla fine ce n'era ancora poca e proprio ho notato che non è molto idratante però secondo me ultra valida per il periodo tipo da aprile diciamo fino a settembre secondo me questa può essere una buona alleata ora passiamo a questo prodotto che mi dispiace un sacco che ho finito il lux enzimatic pill di etere chinesi naturale questo raga io me lo sono mangiato infatti quando lo stavo per finire ero lì che tipo le ultime volte non lo usavo perché non volevo finirlo ma ahimè l'ho finito questo vedete com'è tutto bello vuoto questo non è nient'altro che appunto un prodotto tre in uno ve ne ho parlato su instagram ve ne ho parlato in diversi video youtube perché veramente per me è una svolta perché con un prodotto fate il passaggio di detergente oleoso detergente schiomogeno e scrub scrub molto delicato comunque quindi non è niente di troppo aggressivo ma è veramente una coccola assurda questa la mettete sul viso la lasciate in posa cinque minuti e poi dopo ve l'iniziate a togliere magari la trattate leggermente per diciamo aumentare l'effetto scrub ma vi giuro intanto vi lascia solo questo prodotto senza metterci niente dopo una pelle di seta che non avete idea il profumo è buonissimo un profumo dolcino un profumo delicato veramente top e vi ripeto vi risparmiate cioè tre passaggi in uno quindi non so tipo io le volte che mi devo fare le maschere devo fare i miei trattamenti d'urto della settimana questa c'è mi riduceva di un sacco tutti i vari passaggi perché mettevo questa cinque minuti in posa già dopo andavo con le maschere invece di solito faccio appunto detergente oleoso con l'olio poi mi uso una mousse poi uso lo scrub e sto lì e sto lì invece questo con un prodotto fate tutto e per me raga se non avete mai provato niente di terra cosmesi iniziate con questo perché questo veramente vi svolterà la vita una volta che l'avete provato ahimè vi innamorerete io adesso sto aspettando a ricomprarlo perché vorrei comunque usare i vari scrub le varie cose che avevo già da prima però sono sicura che più avanti lo ricomprerò perché è un prodotto top questo è un balsamo labbra il butter stick lip treatment con spf 30 di kills questo non è un finito ma è un po un bocciato ma questo perché sono io un po scema come vedete è molto pieno di prodotto il quello che non mi piace di questo balsamo labbra è che colora veramente tantissimo le labbra di questo colore è veramente fa un effetto fake che non mi piace per niente ho provato ad usarlo diverse volte ma veramente mi scoccia il fatto di avere queste labbra rosso ciliegia che non è un colore che io amo particolarmente ecco l'ho messo un po sulla mano vedete quanto è intenso cioè immaginatevelo sulle labbra e quindi anche questo fatto che comunque se non balsamo labbra è molto cremoso con le mascherine ovviamente raga non potevo metterlo quindi c'è è stato un po un fail questo prodotto ce l'ho già da diverso tempo ce l'ho già aperto da diverso tempo quindi deciso di buttarlo mi dispiace lo so che può sembrare uno spreco so che magari qui sotto nei commenti c'è chi strip dice no no dovessi non si spreca i prodotti avete ragione raga ma io so che questo prodotto comunque ha una durata vabbè di due anni che non è neanche poco però mi conosco e so che non lo userei io ero molto tendata a prenderlo questo prodotto per il semplice fatto che ha l'SPF 30 e sulle labbra mi piace un sacco avere anche sulle labbra appunto la protezione solare però questo colore così tanto aggressivo non mi piaceva cioè pensate tipo andare in spiaggia tutta struccata con queste labbra rosso ciliegia io pensavo desse un po' di colore ma appena appena invece no c'è guardate qua hanno messo veramente appena e è tutto fucsia cioè più che rosso è proprio fucsia ed è un colore fake che a me non piace per niente magari quando ero più piccola poteva piacermi ma adesso no quindi diciamo che lo stick in sé non so troppo dirvi quanto sia valido perché non l'ho provato così tante volte da dire sì ci sta o non ci sta è comunque un balsamo labbra kills non costa pochissimo però se magari siete curiosi provatelo ma non vi consiglio di prendere questi colori così sgargianti se come me non amate diciamo appunto avere questi colori molto esagerati ultimo prodotto per oggi questo di interdinari che il poco che è rimasto è diventato pure scuro non è molto rassicurante ed è un siero con alfa alburti in 2% più h allora io questo l'ho usato per diverso tempo e vi dico la verità anche qui non ho notato chissà che miglioramenti io non so se con i sieri bisogna aspettare tanto tempo se bisogna far qualcosa di particolare non lo so raga però anche qui questo in teoria aveva come scopo di togliere le macchie dal viso che io un po di macchiette qua e là ce le ho anche cose un po che c'è da tempo allora ho detto proviamolo però sì non ho mai notato chissà che cambiamento in più il fatto che non mi piace di di ordinari e adesso vi faccio vedere a questo tappo che praticamente qua si incrossa tutto il prodotto che è veramente brutto da vedere e non si chiude neanche bene una volta aperto c'è comunque un po di roba un po di aria ne passa e quindi mi sa anche di un prodotto che non si che non si mantiene tanto a lungo e questa cosa infatti era anche un disagio perché non me lo potevo mai portare in giro perché comunque avevo paura che si aprisse che comunque uscisse un po di prodotto e questo fatto qui appunto che c'è il tappo così alto cioè vedete il tappo è qui la chiusura dovrebbe essere ancora più giù non mi faceva impazzire e vi dico me l'ha iniziato a fare subito questa cosa perché uno dice va beh te l'ho fatto dopo tre quattro mesi che ormai lo usavi si è creata una patina ok ma proprio tipo dopo uno due utilizzi mi è successo e quindi finché ce l'avevo in casa lo tenevo dritto così nel cassetto in bagno ok però sì già comunque raga l'ho praticamente finito cioè come vedete ce n'è ancora pochissimo di prodotto cioè ce n'è un dito neanche però non ho ne notato chissà che miglioramenti è vero che costa poco ma comunque c'è se non devi far niente tanto vale che non ti compro e in più questo fatto qui non mi è piaciuto e so che infatti su The Ordinary ci sono tanti pareri diversi c'è chi lo odia c'è chi lo ama c'è chi dice che ha un ottimo rapporto qualità prezzo c'è chi dice che non vale niente ci sono un po di pareri discordanti io questo l'avevo comprato appunto per curiosità ma sono sincera non mi attratta così tanto bene ragazzi il video finisce qua fatemi sapere se questi prodotti riconoscevate già se per voi sono promossi se per voi sono bocciati se la pensate come me se la pensate diversamente prendetevi partecipi anche voi di quello che pensate che ovviamente vi fa sempre un sacco piacere essere qui a scambiarci un po di opinioni e di idee vi ricordo come al solito di lasciare un mi piace un commento e l'iscrizione nel caso lo fosse ancora iscritti ci vediamo super presto con un altro video quindi alla prossima e ciao a tutti